48 e 91, il tempo che dovrà fare per passare al comando 24 e 91, migliore intermedio 9 centesimi meglio di Steiner ora la parte finale molto filante, molto facile Stenmark non ha problemi, conclude il 47 e 98, 1'39 e 54, miglior tempo Stenmark è a comando seguito da Frommelte e da Steiner scende Piero Gross e qui si risolve il titolo mondiale Quanto hai fatto? Quanto? Per essere primo 25 e 39 e in ritardo e in ritardo Piero Gross 48 e 25, il tempo minimo per Gross non ce l'ha fatta Piero Gross e medaglia d'argento 48 e 91, 1'40 e 20 Piero Gross è secondo scuote la testa, scuote la testa Piero Gross ma è comunque una formidabile prestazione la sua è sconfitto solo da un grandissimo campione Piero Gross